Il Grammofono Gerusalem apri le porte e canta Osanna. Lungo una fune infinita e invisibile, tesa dallo zenith al nadir, la fine del mondo, una piovra a due teste in gonnellino da battitore, berretto di pelo e sottanina di tartan, volteggia attraverso la nebbia oscura, gambe in su e testa in giù, sotto la specie delle tre gambe di Mann. LA FINE DEL MONDO E chi ballerà la furlana, la furlana, la furlana? Oltre la nebbia che scorre via e tra soffocanti colpi di tosse si sente stonare in alto la voce di Elia, roca come il gracchiare di un corvo. Lo si vede sudare in una cotta di renza troppo larga con le maniche imbuto, viso da sagristano, sopra un podio drapeggiato della vecchia gloriosa bandiera. Batte col pugno sul parapetto. ELIA Niente cagnara, se no vi dispiace, in questa sede. Jack Crane, Creole Sue, Dave Campbell, Ebb Kirchner, guardate di tossire a bocca chiusa. Badate. Sono io che controllo tutti i telefoni di questa linea. Ragazzi, a voi ora. L'ora di Dio è 12 e 25. Dite alle mamme che ci sarete. Passate subito l'ordine e avrete giocato l'asso buono. Aggregatevi a noi sui due piedi. Prendete i biglietti con coincidenza per l'eternità. Vettura diretta. Ancora una parola. Siete un dio o una zollaccia da cani? Se il secondo avvento avvenissi a Coney Island, siamo noi pronti? Flory Cristo, Stephen Cristo, Zoe Cristo, Bloom Cristo, Kitty Cristo, Lynch Cristo, sta a voi di intuire quella forza cosmica. Abbiamo FIFA forse del cosmo? No. Mettetevi dalla parte degli angeli. Siate dei prismi. Lo avete in voi quel certo non so che, l'io più alto. Potete trovarvi spalla a spalla con un Gesù, un Gautama, un Ingersoll. Siete entrati tutti in vibrazione? Vi dico di sì. Una volta che l'infilate, miei fedeli, la gita di piacere in paradiso diventa una cosa risaputa. Ci siamo? È un tonico, davvero. Il liquido più caldo che abbiate mai ingozzato. È la torta intera con in più la marmellata. È la trovata più sensazionale. È immensa, extralusso. Vi rinfranca, vi fa vibrare. Lo so io che sono vibratore parecchio, senza scherzi e venendo al sodo. A J. Chris Dowey e la sua filosofia armoniale. Vi è entrata in testa? Ok. 77 West, sessantanovesima strada. Vi è entrata? Allora ci siamo. Un colpo di solifono a qualsiasi ora. Briaconi, risparmiate le marchette. Urla. E ora il nostro cantico di gloria. Unitevi tutti in coro, con tutto il cuore. Bis. Canta. Geru, il grammofono, sommergendo la sua voce. Puttanu salemma prilapor. Il disco fruscia e stride contro la puntina. Le tre puttane, tappandosi le orecchie, strillano. Ah! Elia, in maniche di camicia rimboccate, nero in volto, urla con quanto fiato ha in gola, con le braccia alzate. Grande fratello che sei lassù! Signor Presidente, tu hai sentito quel che t'ho detto. Certo. Io ci credo parecchio in te, signor Presidente. Certo. Io credo che Miss Higgins e Miss Ricketts hanno ora dentro in fondo la vera religione. Certo. Mi pare che non ho mai visto una donna peggio spaventata di voi, Miss Florry, proprio come v'ho visto ora. Signor Presidente, vieni e aiutami a salvare le nostre care sorelle. Fa l'occhiolino agli spettatori. Il nostro signor Presidente ha capito tutto e dice niente. Kitty Kate Ho dimenticato me stessa. In un momento di debolezza ho errato e ho fatto quel che ho fatto, Costitution Hill. Fui cresimata dal vescovo e ricevetti lo scapolare nero. La sorella di mia madre ha sposato un mommore in sì. Fu un apparecchiatore idraulico a rovinarmi quando ero ancora pura. Zoe Fanny Ho lasciato che me lo ficcasse dentro per vedere che gusto c'era. Florry Teresa Fu in conseguenza di una bevanda di porto dopo un'ennessi tre stelle che io mi resi colpevole con Whelan quando egli si infilò nel letto. Stephen In principio era il verbo. Infine il mondo nei secoli dei secoli. Benedette siano le otto beatitudini. Le Beatitudini Dixon, Mudden, Crotters, Costello, Lenehan, Bannon, Mulligan e Lynch, in camici bianchi da internato, sfilano per quattro a passo d'oca, svelti e rumorosi. Le Beatitudini Incoerentemente Birra, Bue, Botolo, Biblia, Busillis, Barnum, Buggerorum, Badessa. Lister In brache grigie da quacchero e cappello a tese larghe dice discretamente. È nostro amico senza far nomi. Tu la luce devi cercare. Saltella via a passo di danza. Entra Best in veste da parrucchiere, biancheria fulgida, bigodini e riccioli. Introduce John Eglinton che indossa un chimono da mandarino di giallo nanchino con iscrizioni draghiformi e un cappello alto a mo' di pagoda. Best sorridendo alza il cappello e fa mostra d'una zucca rapata dalla cui sommità si erge una treccia col codino tenuta ferma da un fiocco arancione. Stavo proprio abbellendo, lo sapete? Una cosa di bellezza, sapete. Lo dice Yates, cioè che dico, Keats. John Eglinton Tira fuori una lanterna cieca col cappuccio verde e manda la luce in un angolo. Con accento capzioso. L'estetica e la cosmetica son cose da boudoir. Io vado in cerca di verità. Verità pura. Per un uomo puro. Tante reghi vuole fatti e ne avrà. Nel raggio del riflettore, dietro al secchio del carbone, dotto bardo, occhi di santo, la figura barbuta di Manana o Maclare medita col mento sulle ginocchia. Si alza lentamente. Un freddo vento di mare soffia dalla sua bocca di druido. Attorno alla testa gli si attorcono anguille e lucci. È incrostato di alghe e conchiglie. Nella mano destra ha una pompa da bicicletta. La mano sinistra tiene per le chele un grosso gambero. Manana o Maclare. Con voce ondosa. Aum, ec, val, ac, lub, mor, ma, bianchi gli oghi degli dèi, pimandro occulto di Ermete Trimegisto. Con stridula voce di vento tempestoso. PUNARJANAM PARSI PUNJAUB Non mi voglio far pigliare per il bavero. Qualcuno ha detto attenzione alla sinistra il culto di Shakti. Con grida di procellaria. Shakti! Shiva! Padre oscuro e celato! Colpisce con la pompa da bicicletta il gambero nella mano sinistra. Sul suo servizievole quadrante s'accendono i dodici segni dello zodiaco. Geme con l'avemenza dell'oceano. Aum, baum, pigiaum, sono la luce del focolare. Sono il burro cremante sognoso. Una scheletrica mano di Giuda soffoca la luce. La luce verde sfuma in lilla. La fiammella del gas sibila e si lamenta. La fiammella del gas. PUUUUUUUU PUIIIIII Zoe corre al lampadario e, piegando una gamba, adatta la reticella. Zoe Chi mi dà una cicca, dato che sono qui? Lynch Eccola. Zoe La testa piegata da una parte simulando orgoglio ferito. E questo? Il modo di poggere il pat a una signora? Si sporge in avanti per accendere alla fiamma la sigaretta, facendola ruoteare lentamente, mostrando i ciuffetti marrone delle ascelle. Lynch le solleva sfacciatamente con il suo attizzatoio un lembo della combinazione. Nuda, al di sopra delle giarrettiere, la pelle scoperta sotto lo zaffiro del tessuto, è di un verde da ondina. Aspira tranquillamente il fumo della sigaretta. Lo vedi il neo che ho sul di dietro? Lynch Non guardo. Zoe No? Te ne guarderesti bene, già. Ta contenti di succhiare il limone? Con una strizzatina d'occhi di finta vergogna e l'occhiata in tralice di chi la salunga, guarda Bloom. Indy si gira su se stessa verso di lui, liberando la combinazione dall'attezzatoio. Di nuovo le scorre sulla pelle il fluido azzurro. Bloom si alza, sorridendo cupidamente, facendo ruoteare i pollici. Kitty Ricketts si bagna di saliva il medio e guardandosi allo specchio si liscia le ciglia. L'ipotivi rag, basilico grammato, si lascia scivolare rapidamente giù per la cappa del camino e fa pompa di sé con due passi a sinistra su goffi trampoli rosa. È rinsalsicciato in vari soprabiti e indossa un beckintosh marrone sotto il quale tiene un rotolo di pergamena. Nell'occhio sinistro gli luccica il monocolo di Cashel Boyle O'Connor Fitzmorris di Sdalfarrel. Uno sfente egiziano è appollaiato sulla sua testa. Due penne d'oca gli spuntano di dietro le orecchie. Virag, talloni uniti, sinchina. Mi chiamo Virag Lipoti di Zombateli, tossisce sopra pensiero, seccamente. Mi pare sia quivi reperibile alquanta nudità promiscua, n'è vero? La visione delle sue terga ha rivelato casualmente il fatto che essa non indossa quegli indumenti piuttosto intimi cui tu sei particolarmente devoto. Il segno di iniezione sulla coscia l'hai notato, voglio sperare? Bene. Bloom Ma io, gran papaci. Virag, il numero due d'altra parte, la femmina dal rossetto ciliegia e dalla coiffeuse bianca, i cui capelli non poco devono all'elisir tribale dei nostri cipressi, è in abito da passeggio e ha un busto molto stretto a giudicare da come sta seduta, se ben mappongo. Ha inghiottito un palo, per così dire. Correggimi se sbaglio, ma ho sempre ritenuto che l'atto così eseguito da esseri umani folleggianti con bagliori fugaci di biancheria ti sollecitasse proprio in virtù del suo esibizionisticismo. In una parola, ipogrifo. Non ho ragione, forse? Bloom È piuttosto magra. Virag Non senza affabilità. Senz'altro. Buona osservazione. Quelle tasche a paniere della sua gonna e quel vago taglio a campana sono intesi a suggerire una certa rotondità di anche. Acquisto recente a qualche vendita reclamistica per cui qualche gonzo ha pagato le spese. Eleganza tutta esteriore. Per ingannar l'occhio. Osserva la minuzia capillare dei particolari. Non rimettere a domani quel che puoi indossare oggi. Parallasse. Con una contrazione spasmodica della testa. Hai sentito quello scatto nel mio cervello? Pollesi la basse. Bloom. Con un gomito posato sulla mano, l'indice contro la gota. Sembra triste. Virag Scoprendo i denti gialli da Donnola tira giù l'occhio sinistro con un dito e abbaia erocamente. Storie! Attenzione alla ragazzina di primo pelo e a chi porta un falso lutto. Giglio della Calle. Hanno tutte col fior di scapolo scoperto da Rualdus Columbus. Capitombolala. Colombombolala. Camaleonte. Più giovialmente. Bene. In questo caso permettimi di richiamare la tua attenzione all'articolo numero 3. Molto di lei è visibile a occhio nudo. Osserva la massa di materia vegetale ossigenata sul suo cranio. Opla! Proda! Il brutto anatroccolo della compagnia sbilenco e con la chiglia bassa. Bloom. Con rimpianto. Proprio quando si esce senza fucile. Virag. Abbiamo tutte le varietà che volete. Dolce, media e forte. Pagate e scegliete. Questa o quella per te pari sono. Bloom. Come? Virag. Con la lingua accartocciata. Eum. Guarda, è ben piantata. È rivestita di un considerevole strato di grasso. Ovviamente mammifera quanto a dimensioni pettorali. Puoi notare come presenti sul davanti ben prominenti due protuberanze di volume assai rispettabile, inclini a caderle nella scodella della minestra, mentre sul retro, a un livello inferiore, si trovano due protuberanze addizionali, implicanti un retto potente e tumescenti agli effetti palpatori, che non lasciano nulla a desiderare se non quanto a compattezza. Tali parti carnose sono il prodotto di un'alimentazione metodica. Quando le fanno ingrassare nella stia, il loro fegato assume dimensioni elefantiache. Pallottoline di pane fresco con fieno greco e resina di benzoino ingozzate con tè verde le dotano durante la loro breve esistenza di cuscinetti naturali di colossale grasso animale. Ti sta bene a mano, eh? Pignatte bollenti d'Egitto da far venire l'acquolina in bocca. Rivolto latici dentro. Micopodio. Gli stringe la gola. Patapan! Ecco che ricomincia. Bloom. L'orzaialo non mi va. Virag. Inarca le ciglia. Toccare con un anello d'oro, dicono. Argumentum ad feminam, come si diceva nella vecchia Roma o nell'antica Grecia, sotto il consolato, di Diplodocus e Ictiosaurus. Per il resto il rimedio sovrano di Eva. Non è in vendita. Solo anolo. Ugonotto. Nuove contrazioni. Che suono buffo! Tossicchia, come per incoraggiamento. Ma è probabile che sia solo un porro. Presumo che tu ti sarai ricordato ciò che ti avevo insegnato a questo riguardo. Farina di frumento con miele e noce moscata. Bloom. Riflettendo. Farina di frumento con licopodio e silla basse. Questo interrogatorio è stenuante. È stato un giorno particolarmente faticoso. Una sequela di incidenti. Aspettate. Mi pare che dicevate che sangue di porro semina porri. Severamente. Naso più adunco. Ammiccando con la coda dell'occhio. Smetti di far rotere i pollici e pensa un po' due minuti. Vedi? Te ne sei dimenticato. Esercita la tua mnemotecnica. La causa è santa. Tara tara. A parte. Se ne ricorderà di certo. Bloom. Anche del rosmarino vi ho sentito parlare o della forza di volontà contro i tessuti parassitici. Ma no, questo no. Entravedo un barlume. Il tocco della mano di un morto che guarisce. Nemo? Virag. Eccitato. È così. È così. Proprio così. Tecnica. Batte energicamente sul suo rotolo di pergamena. Questo libro ti insegna come devi comportarti fin nei minimi particolari. Consultare l'indice per febbre con delirio d'aconito, per malinconia da anemone pulsatilla muriatica e priapica. Virag ti parlerà dell'amputazione. Il nostro vecchio amico caustico. Bisogna affamarli. Farli saltare strangolandoli con un crine alla base del collo. Ma per spostare l'argomento di disputa sui bulgari e sui baschi. Ti sei deciso se ti piacciono o no le donne in vestimenta da uomo? Con un risolino secco. Tu avevi in animo di dedicare un anno intero allo studio del problema religioso. E i mesi estivi del 1882 alla quadratura del circolo. Per vincere quel milione! Corbezzolo. Dal sublime al ridicolo. Il passo è breve. In pigiama? Va bene. Ho in culottine di maglia di seta a mezza gamba chiuse. O facciamo l'ipotesi. In quelle combinazioni complicate. Camiculotte! Schernitore. Checchirichiii! Bloom osserva incerto le tre puttane, poi fissa la luce velata color lilla, sentendo volare l'incessante falena. Bloom Volevo allora aver ora concluso. Camicia da notte non fu mai. Quindi questo. Ma domani è un nuovo giorno. Sarà. Il passato era è oggi. Ciò che ora è sarà allora domani come ora era esser passato ier. Virag Insetti effime ripassano la loro breve esistenza in un coito reiterato. Attirati dall'odore della femmina inferiormente pulcritudinosa, avente una vitalità pudendale, estendificata nella regione dorsale. Loreto! Il suo becco giallo da pappagallo farfuglia nasalmente. C'era un proverbio nei Carpazzi nell'anno 5550 della nostra era o giù di lì. Una cucchiaiata di miele può attirare un orso bruno più di mezza dozzina di varili di aceto alcolico di prima scelta. Il ronzio dell'orso scaccia le api. Ma questo è un altro discorso. Potremo riprenderlo un'altra volta. Eravamo felicissimi noi altri. Tossisce e chinando la fronte si stropiccia sopra pensiero il naso col cavo della mano. Noterai che questi insetti notturni seguono la luce. Illusione. Perché non devi dimenticare l'inadattabilità del loro occhio complesso. Per tutte queste questioni spinose vedere il diciassettesimo libro dei miei fondamenti di sessuologia, ovvero la passione d'amore che il dottor L. B. dichiara essere il libro dell'anno. Per esemplificare ce n'è anche di quelli coi movimenti automatici. Questo è un sole adatto a loro. Uccello notturno. Sole notturno. Città bordello notturna. Dammi dietro, Carletto. Soffia nell'orecchio di Bloom.